Consigliere Piana, un suo intervento a favore dei piccoli comuni, perché lei teme questa unificazione proposta a livello centrale, c'è stato un intervento del Partito Democratico che dice che i comuni più piccoli bisogna unirli, lei invece dice di no, è così? È una proposta di legge che hanno presentato alcuni deputati del PD, sono andato un attimino a estrapolarla, parla di comuni sotto i 5 mila abitanti che dovrebbero essere accorpati, all'incirca sono 15 milioni di abitanti che vivono in comuni sotto i 5 mila abitanti, diciamo che andare a accorpare, più che accorpare è una fusione di comuni, praticamente non esisterebbero più i municipi e quant'altro, Io credo che intanto nel breve termine questo comporterebbe dei costi e poi è da vedere se in futuro questi risparmi ci saranno o meno, francamente non credo che ci saranno, è un po' come quello che è successo con le comunità montane, io credo che se si fosse aspettato un attimino per passare all'unione dei comuni successivamente si sarebbe dovuto un attimino aspettare, sopprimere magari le comunità montane e trasformare l'unione dei comuni, magari dividendole ulteriormente a secondo del territorio, questo credo che sarebbe stata una riforma più fattibile anche e soprattutto perché avrebbe visto un passaggio di consegne e non avrebbe causato tutto quel caos che è stato causato a livello di organico e di dipendenti pubblici.